Musica Affaticamente complicazioni digestivi per gli anziani, colpo di calore per gli sportivi inesperti, perdita di concentrazione e di attenzione per i bambini. Sono questi alcuni rischi che si corrono se non si idrata correttamente il proprio corpo, soprattutto nelle fasi di gran caldo, visto l'arrivo di Caronte sul paese. Ma come? Bevendo in media un litro e mezzo d'acqua al giorno e mangiando molta frutta e verdura. Secondo gli esperti, per i più piccoli è importante una corretta idratazione. Fornire ai bimbi la giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa una condizione importantissima per il benessere psico-fisico. Tutti gli anziani dovrebbero bere almeno due litri di acqua al giorno e nei periodi particolarmente caldi si può anche arrivare a tre. Consigli anche per gli sportivi, specie se inesperti, perché possono subire contraccolpi negativi dal grande caldo di questi giorni, come il colpo di calore. Il corpo, quando esegue uno sforzo fatta vita fisica, si surriscalda e l'acqua, oltre a rifrigerare l'organismo, reintegra quella persa durante gli sforzi, garantendo la corretta idratazione di tutto il corpo.